Benvenuta da Grigento, benvenuta al Teatro Pirandello, ci siamo quasi per il tuo debutto. La prima volta per te qui da Grigento. La prima volta da Grigento mi sono trovata benissimo, sono stata accolta super bene in questa meravigliosa struttura, Francesco veramente mi ha fatto sentire a casa, mi ha coccolato, anzi ci ha coccolato, peraltro ieri con la superguida di suo fratello siamo andati anche alla Valle dei Templi, abbiamo visto la Scala dei Turchi, abbiamo apprezzato un po' anche le prelibatezze locali, mangiato in qualche posticino, insomma diciamo che non ci possiamo Il teatro vi permette anche di girare per le bellezze dello stivale? Tra le tante meraviglie, tanti regali che ci dà il teatro, questa è una delle tante insomma perché ne parlavamo proprio ieri anche con gli altri colleghi, è veramente un bel lavoro, siamo fortunati insomma perché si lavora la sera e di giorno puoi andare in giro a scoprire le bellezze, visitare l'Italia che di solito poi quando si viaggia, io ho viaggiato molto almeno prima del Covid, quando si viaggia si tende sempre ad andare lontano, ma questo funziona un po' in tutte le cose e non si guarda mai vicino alle cose belle che ci sono, si cercano, chissà perché si pensa sempre che le cose belle stiano più lontano e quindi Agrigento ad esempio è uno di quei posti che ancora non avevo visitato, a differenza del mio amico Nini Salerno che si sente un rumore tipo di gatto, c'è Nini qua, aspetta se non sei microfonato ma guarda, ci sto vicino, mi sentite? Lo sentite? Senti poi la cosa è molto piacevole, noi possiamo stare qui anche un paio di giorni, un paio di giorni, io avesse con Agrigento un rapporto antico perché sono stato tante volte, ho avuto il produttore Francesco Bellomo di Agrigento, tanti amici agrigentini per cui conosco Agrigento come le mie tasche e l'apprezzo sempre molto e devo dire che ieri, grazie alla signora Badale, ho fatto il giro della Valle dei Templi che non avevo una volta... Ah è vero, sì che meraviglia! Tu eri stato qui anche per una saga del mandorle in fiore? Sì, sono stato qui per quello, hai ritrovato i mandorle in fiore, mi hanno dato un premio proprio sotto il Tempio della Concordia, vada, con Agrigento io proprio ho un ottimo rapporto, mi piace, ho fatto, ho debuttato sempre con la produzione Bellomo un Pirandello, proprio col debutto davanti alla casa del Pirandello sotto al caos, insomma, abbiamo debuttato con amici miei nel 2002, insomma, tanti ricordi... Puoi prendere la residenza di Agrigento, la cittadinanza... La cittadinanza onorata, no, onorata... E lo spettacolo, prendiamo di questa esperienza in teatro, come... Colpa mia? È un po' colpa sua... Per quanto la riguarda è colpa mia... No... Allora, mi ha cercato il produttore Gianluca Ramazzotti, e quando ho chiesto chi c'era nel cast, tra i vari nomi, è venuto fuori quello di Nini Salerno che io conoscevo ormai da tanto tempo, perché abbiamo avuto un trascorso, un passato in comune a Buona Domenica... E ci eravamo trovati bene, devo dire, abbiamo avuto subito un ottimo feeling, quindi ho chiamato Nini e ho detto, senti, mi è stata proposta questa cosa, Nini, dimmi la verità, secondo te, riuscirò a farlo? E lui, non lo so, se è un po' con un po' di incoscienza o per... No, no, conoscendoti, sapendo che tu sei una donna curiosa e che giustamente guardi avanti, ho pensato che fosse il caso che tu ci provassi, insomma, cosa che... Ed eccomi qua... È riuscita pienamente... È riuscita pienamente? Ma sì, dai... No, ma aspetta, rifacciamo... Nonostante il fatto che io non sia una bellissima, insomma, che sono un po' ultimamente decaduta, però invece devo dire che ce l'ha fatta, alla fine, devo dire, ha fatto la sua ottima figura... Davvero? Ma sì, dai, lo sai poi... No, no, devo dire che sono stata molto aiutata da un cast decisamente di professionisti capaci e talentuosi, infatti. C'è una grande complicità tra di noi, questa è una grande fortuna nel teatro, perché noi siamo dieci attori in scena, no? E quindi è una compagnia... Ecco, parlateci un po' di questo spettacolo, sono trent'anni che ha successo... Io non ero nata trent'anni fa... Nonostante le rincipitazioni, continuo a riempire teatri e ad avere successo, perché? Perché è divertente prima di tutto. È uno spettacolo divertente e semplice, diciamo, nell'impatto con il pubblico, perché si tratta di una comicità proprio immediata. Pubblico entra in questo vortice... In questa bolla? In questa bolla, più o meno lentamente, nel senso che c'è un pubblico più scaltro, più disponibile, uno che ci mette magari qualche minuto in più, però una volta entrato in questo vortice derivicante non si ferma più. Nel tuo futuro, Paola? Ancora teatro? Ma guarda, io impara... Beh, magari, se arriveranno delle proposte... Sì, sì, direi di sì, guarda... Confermo. Confermi? Ma sì, per altre cose. E tu, se devi dire una bugia di Lagross, il tuo personaggio dice... Io faccio l'amante del marito... Dice qualche bugia... Ah, guarda, io... Ebbè... Io non... Tu dici in teatro... Nel spettacolo... Il tuo personaggio... Ma in realtà... In realtà cerco solo di nascondermi... Sì, ecco, è la classica amante. Sì, però non dico... No, no, nello spettacolo io non dico bugie. No, bugie... No, nello spettacolo non dico... Beh, sì, fai finta di essere un'altra, ti travesti... Beh, sì, all'inizio... Giusto per... Nella vita odio le bugie, perché io... No, 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 io non dico... No, io non dico bugie. No, lo so perfettamente. Io sono una che pensa che la vera libertà... Tutti parlano di libertà, la vera libertà è avere il coraggio di non dire le bugie e dimostrarsi per quello che si è. Quindi io non dico bugie e se becco qualcuno che mi dice una bugia... Ma ogni tanto qualche bugie... Ma sì, ma certo, però voglio dire... Ma sì, ma io parlo di bugie, capito? Ah beh, quelle... Poi l'ho detta, se ti dicessi che non le ho mai detta, ho imparato col tempo a non avere il coraggio di nascondermi dietro a una cosa che non... Però tu lo capisci quando dicono una bugia? Purtroppo sono una scema che ci casca sempre. Pure io, io parlo zero. Perché chi non ha il difetto non ha il sospetto e quindi ci casco. Diciamo, no, ultimamente sono diventata un pochino più attenta, quindi... Sono sempre... Becco la sola, un pochino... Fondamentalmente siamo un po' boccaloni. Siamo un po' scemi. Un po' boccaloni, quelli che... Io sicuro, cioè, do sempre... Ah, ci credo. Quando mi dici una roba... E ci credi. Prima ci credo, poi magari... Ma la fatica di dire una cosa... Perché poi uno... Ma perché uno la dice? A meno che non abbia uno scopo finale come il nostro buon Dimitri, insomma, che deve fare... Però come insegna lo spettacolo? Da una piccola bugia ne nasce un altro, un altro, un altro, un'altra... E diventa una cosa, sinceramente, nello spettacolo, molto divertente. Molto, molto. Ciao a tutti. Ciao, veniteci a vedere.